Io lo sapevo che prima o poi i paesi del Sud America, anche se c'è la bandiera della Grecia, del Belgio, del Sud Corea, è proprio quella dell'Italia? No, per il momento non l'avevo. Forse sì, non lo so, vediamo. Sapevo che avrebbero fatto un monumento alla empanata, no, è stronzatissima. E' spettacolo. Le montagne stanno fra o su le, o adagiate, o quello che è, alle montagne. Guardate che spettacolo è. Mega empanata. In verità questa è la plasuela della Samerica, però sta via. Plasuela della Samerica. Quasi non so se chiamarlo monumento alla empanata. Guardate che spettacolo.